Ma Paul, che cazzo hai fatto i capelli? Beh, niente, cioè, non ho fatto niente, tranquillamente Ah no, ok, perché hai qualcosa di strano Ma ragazzi, che cazzo? E beh a tutti ragazzi, sono Paul Bentornati in questo nuovo video del vlog of the week Come avrete visto dall'intro di questo video, ragazzi Ho fatto qualcosa i capelli, sì, li ho tagliati Ho fatto qua questa specie di sfumatura che c'è tutta qua E dietro, ragazzi, c'è il codino magico che mi porterà fortuna E comunque, sì, li ho fatti, cioè ci stanno Se a me piacciono, di verità, poi scrivete sotto nei commenti se vi piacciono Da qua sembra tipo pelato, proprio in maniera assurda Comunque, come di consueto alla domenica Siamo qua con il vlog of the week Ragazzi, come vi è andata la settimana? A parer mio, la mia settimana è andata molto bene Sì, a scuola ho ricevuto delle cose fantastiche Ma mia successione ha medito quasi cose E anche rispetto a YouTube, ragazzi Non abbiamo caricato video Perché doveva caricare Diego Ma non ha avuto dei problemi nella fase di montaggio E praticamente non abbiamo caricato video Vabbè, comunque tranquilli, ragazzi Noi ci siamo sempre Sempre, sempre Anche se non carichiamo video una settimana Ragazzi, ci siamo sempre Il vlog of the week uscirà quasi sempre, ragazzi Per farvi sapere come va la settimana E niente, sono felice di questo Ragazzi, siamo arrivati a 262 iscritti, ragazzi Mamma mia Tantissimo Cioè, proprio tantissimo Cioè, si sente proprio dentro qua Qua nel cuore Ancora con queste quadrature Che mi è piaciuto un casino La scorsa volta E mi è piaciuto tantissimo, ragazzi La quadrature E mi piace un casino Che voi continuate ad iscrivervi Cioè, mi piace proprio veramente un casino Cioè, proprio non c'è da calcolare E comunque, sì YouTube sta andando molto, ma molto bene A voi come vi è andata Spero bene, sì Perché come ogni consueta volta Sì, sì Molto bene E allora Il gioiellino è arrivato, ragazzi E la mia bestia è arrivata Però devo moddarla Adesso che vi ho detto così Sapete già di che cosa cazzo parlo E ve la farò vedere in un video, sicuramente Poi Sono in ballo per comprare, ragazzi Tom Clancy's The Division E poi UFC 2, ragazzi Che mi ispira un casino Con Mike Tyson Lì, fica strapompato In una maniera assurda Bruce Lee Cioè, epico, ragazzi Epico Cioè, adesso ho appena scaricato La versione di prova Di UFC 2 Con IEHS Ve la porterò sicuramente sul canale E Così vi farò vedere un po' Com'era UFC 1 Che avete visto Il video che avevo messo sul canale Se non l'avete visto sotto, ragazzi In descrizione Perché Dovete guardarlo Obbligatoriamente E poi Sicuramente porterò un video Su UFC 2 Poi Appunto, come ho detto Voglio comprare The Division Che è strabello Mi piace un casino Cioè È bellissimo Cioè, nel senso Tu sei lì Ed è un gioco Open world In quella maniera lì Cioè, è fantastico Cioè, non c'è nulla Poi ragazzi Continuiamo a parlare Voglio portarvi sicuramente Una serie su Minecraft Che ho scoperto Come creare un server Di Minecraft Appunto Quindi Potrò farla con i miei amici Una serie Abbastanza carina Sì E poi La prima cosa Che voglio portare Ragazzi Su questo cazzo Di tablet Questo cazzo Di tablet Ragazzi Una serie Su Clash Royale Clash Royale Sapete che cazzo era Cioè, cos'è ragazzi Il gioco di Clash Cioè, il gioco di Clash Dopo Clash Royale Se hanno fatto Clash Royale E mi piace Mi sta appassionando un casino Mi sta scimmiando un casino Questo dice In termini giovanili Mamma mia Eccezionale Milito Quasi con Però ragazzi Ho un problema Non so come registrare Dal tablet Cioè, ci sono Tutti i tortori A stronzissimi Su internet Ma il mio tablet Non li supporta Cioè, non so Se lagga il mio tablet Il mio tablet lagga E proprio Non so Se sapete qualche modo Se avete anche voi Un tablet così Se sapete dirmi Come fate O linkarmi qualcosa Sono molto Molto felice Quindi voglio portarvi Anche una serie Su Royale Magari con tutti i pacchetti Che apro Magari un piccolo spacchettamento Cioè, ci sta un casino Se state guardando ragazzi Cioè Aspetti Metto fuoco un po' Cioè C'ho le pupille stradilatate Ragazzi Vi starete chiedendo Ma perché c'hai le pupille stradilatate? Stamattina sono andato a fare La visita oculistica E dovrò portare A fare A stare sul computer Quando c'ho la vista stanca Dovrò portare gli occhiali Cioè C'ho pochissimo Cioè C'ho 0,5 Meno 0,5 Quindi È pochissimo Comunque Dovrò portarli Vi dovrete abituare ogni tanto Mentre giocherò Agli occhiali Ve lo dico anticipatamente Comunque Tipo Sembravo tipo Un drogato stronzissimo Con le pupille Cioè Grandissime Era un coso di Porca troia Stai grandi Vabbè Perché mi ha messo dentro il collirbo Ho toccato il microfono Cazzo E per il resto Niente Se volete linkarmi sotto Qualche video Appunto Come si registra dal tablet Mi farebbe molto piacere Perché voglio portarvi appunto Clash Royale E se volete vedere Altri video Scrivetemi sotto Nei commenti O magari una serie O magari una serie su minecraft Ragazzi Come vi ho detto Che forse Cioè Inizierò sicuramente Una serie su minecraft Ragazzi Scrivetemi Che serie potrei iniziare Su minecraft Una serie obiettivi Una serie ctm Una serie vanilla Inizia a creare Io a caso Proprio così A caso Proprio top Comunque ragazzi Iscrivetevi Lasciate un like Un commento Per questo video è tutto Twitter Instagram Facebook Sotto In descrizione Qui Da Pol E' tutto Bella ragazzi Pff